Buonasera amici e appassionati, stasera in questo periodo stiamo facendo un metodo di allenamento un pochino diverso, stiamo lavorando un po' con la nostra Caelina che tra poco arriveranno altre attrezzature per lei, bulldog francese, pura razza, per dimostrarvi che i limiti sono solo nella mente, siccome ultimamente con i pitbull siamo un po' fermi anche per il tempo e poi non potendo partecipare alla gara sportiva in Repubblica Ceca e siamo stati rifiutati dallo Sporting Dog Club Veneto per motivi un po' assurdi del tipo non abbiamo partecipato l'anno scorso ma vorrei ricordare al Presidente che si è intascati 90 euro e non siamo potuti andare perché lo stesso giorno avveniva purtroppo una cosa molto importante per la nostra famiglia e perché abbiamo problemi con alcuni cani presenti? No, l'unico problema che ho è una paura per i miei cani che li porto sani e li voglio riportare sani a casa, problemi con alcuni membri non è colpa nostra se alcuni vostri membri hanno una denuncia da parte nostra tra l'altro penale per diffamazioni quindi se preferite scegliere in Italia come sempre certe persone sono assolutamente cazzi vostri anzi spero che i 90 euro che ci avete rubato l'anno scorso vi vadano o almeno per migliorare quello che ci avete godetevi lo spettacolo della nostra piccola atleta all'opera che dimostrerà che i limiti non sono nella razza ma sono nella testa, vero? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti